buonasera popolo di youtube sono in questo momento le 20 e 17 giovedì 7 dicembre 10 e l'otto sera è andata più che bene 30 e 39 secondo estato di milano 30 prima estato di no per 39 e ci sia poi 9 33 39 prima estato di cagliari 9 prima estato di napoli 39 secondo di milano 30 ora vi ricordo domani sera non ci sarà l'estazione che della settimana prossima prima 5 estazione che recuperano quello che mette di domani quindi ci sarà l'estazione lunedì martedì giovedì venerdì e sabato prima solo devo dare io ho fatto un ternuzzo anche questa sera niente di eclatante non lo faccio nemmeno vedere di 42 su bari cioè pardon su palermo ancora in posizione io lo dirò in terza in quarto e si è ripresentato ancora anche questa sera e poi mi raccomando il pianotto mi raccomando amici mi vabbè io vi do l'appuntamento a sabato per le nuove stessimo la luna è tutto ciao ciao ciao